E allora Giamborini... La pista l'ha vinta Wario, confermerà la sua... Eh, però l'ho vinta con Goomba, che non ha le mani, quindi Wario che ha le mani non la può vincere. Sì, Wario senza mani si è visto su... Ne parlavamo ieri del torneo di Mario Carset, e lì era proprio Wario senza mani. Sì, decisamente. Soprattutto la prima... Beh, questa è bella però, la pista. È semplice. È meia di Luigi Circuit Wii, sicuramente. Abbiamo messo un pat 15 duri? Sì. Eh, fatto primo... Evviva! Guarda com'è scontento il pelato. Quindi se era una partita con i random mi sarei già fatto disconnetto. Già coittato, esatto. Sì, sì. Ma tanto iniziavi che non c'era una persona, io non ho ancora visto quattro persone online. Cioè, parti proprio con un botto. Però gli danno un nome come fosse vero, tipo Sara, roba così, che tu pensierai... No, è fatica. È una fica e invece no. È un Mario Kart 2 all'inizio, che tu giocavi offline e ti metteva contro avversari con nomi umani. Sì. Quindi ti ludeva che stavi giocando contro altri umani. Mi dica ci sono gli snippet, peggio nonno, peggio. In realtà te l'ho già fatto vedere lo screen di quella cosa. Se lo sarà dimenticato. Sette. Sette, con i capelli che mi sono rimasti. No, ho stato un negozio. Enes ha tipo un blocchetto con le battute sui capelli di Valoggi per ogni pista, tipo. È un minigioco anche. Quella puttana di Rosalinda. Era una cosa che sto scritto dalla firma. Ah, è vero. Chissà chi era quel tizio. Chissà come sta. Che cazzo è la cazzo? Era un amico di Mioque, che noi stavamo giocando online e c'era di un altro forum, non so di dove cazzo fosse. Ah, ma Rosalinda è Nike adesso lo realizzato. Lo c'era, eh. Io sono, eh, infatti. Io sono la tenerissima. No, invece Rael è questa talpa sporca di terra. No, non è sporca. Che schifo, madonna. No, no. Guarda che carina sul kart. Potrebbe non entrare in Mario Kart. Sembra un cinese obeso incastrato sul kart. No, non è vero, non è vero. Eh, sì, perché c'ha gli occhi chiusi e è un cinese. Ehi, cinese. Ah, Otto non è male, però. Ma mi sa che è vero, è pure io? Vuoli di... Stavo pensando... Ah, mi aggiungi. Monty Mall. Cioè, che gioco di parole è? Che si chiama Monty Mall in inglese? Cosa significa? Monty Mall è... Ma magari non è un gioco di parole. Cioè, è un personaggio di che gioco? Mario 3? Bross 3? Facevano giochi in Mario World. Anche in italiano tanta talpa che vuol di tanta talpa. Vabbè, in italiano c'era anche il marghi bruco, tipo... È vero. Il pochi, quelli del deserto, si chiamano marghi bruchi. Cosa vuol dire? Ah, sì, è vero. È boh. È perché c'hanno una margherita in testa. È vero. Perché tipo timido è molto straight e forward. Perché c'ha guy. No, però devi vedere se è un gioco di... Io non so se è un gioco di parole, perché Mario Bros 3... Magari davano dei nomi così a cazzo. Cioè, subito. Cioè, bisogna vedere gli altri mostri, tipo... Oh, ma... Bullet B. No, la talpa mi sa che è Mario World, comunque. Ah, sì? Beh, sì. Ma non c'erano sulle airship, le talpe? Eh, però quelle che tirano... Sì, è vero. Ah, quelle che tirano il chiaro hanno un nome diverso, però. Però mi sa... Eh, hanno un nome diverso. Ma le talpe è stata presa. Cazzo. No, adesso non vuole stompare. Eh, faccio il mind game. Madonna, che mind game. Perché mind game? È semplicemente correre. Madonna, che fatica Wares. Che fatica, che fatica Wares dentro. Wares dentro la palla da Crichetto. Guarda Waluigi come giro. Waluigi è la nostra ultima speranza. Resisti, la sua non c'ha fa, non c'ha fa. Oddio, sì. Bene, bene, bene. Ma forse non ce l'avrebbe fatto lo stesso. Non male, meno male. È bruttissimo essere presi dal begio. Chissà dove ti metterlo. Sì, beh, comunque non so chi era quello lì che aveva scritto quel messaggio. Però me l'aveva mandato Mio, che... Eh, sì, mi era il nastio in breast, quella puttana di Rosalina. Sì. Che astio. Che rimane un po' in breast. Eh, ma perché avevo fatto... L'avevo fulminati a Todd Circuit, stanno in fondo. E questo tizio non aveva mai visto sta cosa, probabilmente. Quindi... Eh, probabilmente è l'unica cosa che ha visto del gioco. Esatto. Ah, ma qua la stella è fissa in due punti, giusto? Eh, guarda, se l'hai vinta tu sta pista, sei l'esperto. Eh, chi si ricorda? È stato mille anni fa. Anche tu verde? No. Eh, però loro si comprano le cose. Si compra subito un ticket oppure un... Un turbodado. Beh, non puoi. Non puoi soldi. Un buono pasti. Sembra... Quel tubo sembra la tazza di caffè del Koopa. Che si sorseggia meglio. Adesso... Adesso... Ah, il tubo, eh? Chi fa l'autogrill? Minchia. Magari mi vendesse un Apollo. Ne avrei proprio volo. Madonna, ma lo vorrei... Io ho mangiato troppo. Ok, maledirmi non mi serve. Boh, magari c'era una maledizione. Vabbè, vabbè, mi sono auto maledetto. Un altro oggetto, gruppo. Ne prendi un altro? Oh no? Sta un po' sul cazzo l'Alpa. Chi ti sta sul cazzo l'Atalpa? Solo perché la uso io. Beh, ai tempi di Mario Kart Santa quando? Solo perché la uso io. No! Aspetta, vado. Tutti entrambi, se vai su... Se vai sulla verde... Eh, schippi la stella. E fai qui. Fai comparire gli sniff. E trascini anche me. E trascini anche me. E fai triggerare. E fai triggerare le guardie. Eh, lui sta sottolineando trascino anche lui, quindi vuole che lo faccia. E allora perché non ha condendato? No! Milk, guardami. Eh, Milk sì, mi interessa. Milk. Andiamo. Eccoli, nonno. Allora, allora, allora... Secondo me sta cosa l'hanno fatta proprio per nonno. L'ho detto, guarda questo qua, ma come gli sta sul c***o. Ma sblocca con un obiettivo, oltre al danno, la beffa. Sì, quando fai sta casella, tenete. Io l'ho fatto la prima sera. Sì, s'ambole io. Questa uscirà? Le chiavi? Le chiavi? Sì, ma non ho detto. Perché l'ho detto? Il gioco peggiore del gioco? Sì. Probabilmente sì. Il gioco peggiore del gioco. No, per me no. Per me quello delle monete che gira è peggio, è troppo lungo. Ah, beh, sì, giusto. Ok, raga, io sono in win streak con una strat e continuerò. Non potresti scavare sotto il cancello? Eh, ma il gioco non può essere che è sempre questa. Ah, cazzo. Si blocca la win streak dal primo turno con la rotonda sinistra. Secondo me è triangolo. Triangolo sinistra. No, sinistra! No, 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 vabbè, non è vera. No, vabbè, guarda, in realtà tu pensi che quella sia la sinistra, che stai cercando di nascondere... Voglio più di anni di guarda. Voglio. Stai cercando di nascondere la coda. E invece no. C'era la tappa, ve lo dico. Hanno preso proprio l'assesso... E che io non mi ricordo già più. Oddio. Ecco l'ho detto. Adesso Rai le vince. Non è stato fatto il triangolo, no? No, no, no. Eh, chi lo sa. Se si prende questa, non l'avevo considerata a sinistra. Non l'aveva considerata il triangolo. Oddio. Ragazzi, io mi so scordato tutto, però adesso. No, io non ho invece. Eh, io sì. Non mi ricordo che aveva preso un hank. No, nessuno è andato al centro. Nessuno è andato al centro. Non c'è neanche... Brabo, Arez. Hai fatto l'unica... Ma che cazzo? Hai fatto una cosa che era sicuramente sbagliata. Allora, la chiave al centro... Il triangolo al centro non ho messo? No, ho mesciato. Volevo metterla al centro perché non era stata provata lì. Allora, l'esagonale era per forza sulla prima. Quindi, Arez, hai fatto la cosa più sbagliata che potessi fare. Stava per andare a destra, però no. Eh sì, perché non compaio le cose accanto. Quindi quella triangolare è sbagliata? Eh sì. Ci ha aiutato la pipa. Ah, ma la togli, eh? Sì. Eh, quella che sapevamo fosse sbagliata. Yes. Eh, vabbè, Rit. Io non mi ricordo qual è la delle due. Nessuna delle due mi pare scherzata. È un 50-50. È un 50-50. E hai perso. Io direi un bel disconnect, guarda. Adesso ci sarebbe proprio bene. Dopo un'umiliazione simile. Wow. Che schifo. No, però a me è rimasta una chiave. Te la puoi ficcare in culo, eh. Esatto. Posso fare giusto questo. Guarda come ha adirato Waluigi. Waluigi ha perso dei capelli qui. Sì. Mangiando le aveva. Eh, ma lui sta cercando di fare soldi per il trapianto. Chiaramente perdendo minigiochi non può arrivare la somma. Non può arrivare in Turchia? No, non l'ha fatto in Turchia. È stato in macchina, perché sono... Eh, sì. Non lo so dove l'ha fatto. No, ma sono bravi, da, dicono. Ma sono bravi in Turchia, dicono. Eh, beh... Dicono. Yusuf, i capelli, ce li aveva tutti, quindi... Si comincia a rubare. Io ruberei warrants perché ti ha fatto finire qui. Sì. Pure, secondo me, ha. Mh, ma sì, dai. Avete ragione. Ma sì, ma... Avrei rubato al vecchio per rendere il piccino la stella, però. Non c'era montato la scelta, perché è? E' parto come è rimasto incastrato. Sì, warrants non esce più da lì, non so. La scelta più logica era il vecchio, comunque, perché si stava avvicinando la stella. Ma non c'è la scelta logica. Noi non vogliamo usare la logica. Esatto. Punta. Ah no, questo è l'atterraggio. Ecco, vedi, sei stato anche premiato da questa decisione. Se tu non rubavi warrants non era qua. Esatto. Mh, che giugano. Eppure è provato. Se rubavi il gioco non c'è. Se rubavi warrants. Ruberà le ruote e l'autoradio e lo specchietto anche. Ah, ma salti? Cosa salta? Ah no, lì è dove arriva. L'atterraggio. Avrei maledetto warrants così non arrivavano a casa. Eh vabbè. Eh, ma questi mo' pensano a vincere, non pensano warrants. No, però non mi sembra una maledizione così interessante. Eh, qua potrei prendere i ticket. Ho anche il dado. Ma l'altro consiglio della sua tazza di caffè. Io sto dado 4 però non mi fido tanto, non mi fa impazzire. Ma sì, dai, prendiamo i ticket così soltanto. Eh, ti fa schippa la roba. Due quattro volte. Due meno quattro volte. Scusi, utilizzabile più non due volte. Ah, vado sulla verde anch'io. Devi... Eh, ah, man, mi faccio una verde. Comunque ho i funghi quindi il riluppo prima. Milk. Bene, qui sarebbe servito a farlo. Il dado 2. Mi hanno messo anche questo personaggio qua. Mmm, bellissimo questo personaggio. Questa è la Rai dalle medie sui go-kart. Esatto. No, le medie avevo già rinunciato. La cosa dei go-kart l'ho fatta con Mario Kart 64, quindi avevo 7-8 anni. Però non ci stavo sul go-kart e quindi, boom, è finita lì la carriera da go-kart. Ah, c'è il tuo Dano che ti filma, guarda. Ah! Ah, no, non c'è il dado. Non te l'ha segnata come... Non te l'ha segnata come blu. Buoh. Cosa? La... La casella. Te l'ha segnata come blu, non come verde. Eh, ma perché la verde quando giochi diventa... Cioè, ma dici a me? Ah, forse ti si è perso quando è diventata blu. No, la casella è verde, però quando inizia minigioco le verdi diventano blu o rossa. No, no, era da solito blu. Non ha cambiato colore. Ah, vabbè. Mi cola su Dragon Quest. Cola su Dragon Quest. Un numero straordinario. È bello, bello quel Dragon Quest. No, è molto bello quel Dragon Quest. Mi è piaciuto un sacco. Blarga. Non è vero come un'altra volta. Oh, nessuno muore. Puoi morire tu. No. Potrebbe morire questa tappa. Potrebbe andarsene a fanculo il Blarga, ad esempio. Potrebbe morire la tappa. Mi sei saltato sopra. No, intanto ho già tanti suoi. Eh, ancora meno capelli per Warwitch. Eh, mi si sono bruciati tutti. Minchia, una pollo? Da questa estate che non mangio una polla. Cazzo, non ho voglia. Che però non si sa perché quelli dell'autoconistro sono così buoni rispetto a... Sì, non è niente di speciale, però è buonissima. Però sono buoni. Vai. Ah, ci sono due ponzo vicini. Io sarai nato sopra, c'è quella roba che ti vende 800 funghi. Eh, funghi... Eh, ma non mi conta il giro. Eh, vabbè. Tanto i soldi li hai detto che scendiamo. Non so. Ah, viene anche tu con noi. Sì. È tutto scriptato questa cosa. Eh, l'ho scriptato io andandoci la prima volta, secondo me. Io vorrei una rustichella, eh, sono tutti buoni. Anche il camuogli, che è solo focaccia col prosciutto, però per qualche motivo è più buono di qualunque altra focaccia col prosciutto. Chi uscirà stavolta? Chi uscirà stavolta? Per il maledirmi, schifo buono di qualunque altra focaccia col prosciutto. E' un po' una stronzata, però mi faccio una verde sicuro. Quasi quasi. Ok, questa è una verde verde. Tanto adesso rubare Amen, cioè. Ah, ah, che strategia. I maledici. Vado di set up. Che staffa, mamma. Adesso boing. Pure questa è la segna direttamente blu. Eh, va. Un po' strano, ma magari è un bug, però. No, questa è un... No, allora è un bug. Ah, mi tocca mesciare. Ti vuoi i tuoi soldi? Ah, perché sta cattiveria o ares? Non lo so. Niente, no. Sei ancora triggerato dalla sberla di ieri? Stanno per arrivarte le altre. In realtà no, non so, mica sono una persona rancorosa io. Io sì. No, tu sei mega rancoroso di brutto. No, non è vero. Hai rubato a Godot 6 turni di fila perché t'ha preso 10 monete al primo. Vabbè, mi riprendevo le mie cose, scusate. Glielo prestate e me le riprendo. Vabbè, un po' di cash. Ho i soldi doppi, fuori. Mi gioco per due anche. Oh, oddio. Ciao, io sono qua. Cos'era qua che si può saltare? Puoi saltare quei muretti lì, però non so cosa serve. Cioè, vedo una porta all'altra. Vabbè, vati, 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 no, le miei soldi. Sono miei. Questa è la mia zona. No, io non prendo mai niente. No. Sono stato scatafottuto laggiù. Scatafottuto? Mi hai fottuto. Ah, hai fottuto tutto. No, loro mi fottono tutto. Questa è un po' di soldi. No, però non ne prendo più. No, però... Guarda, se ne prende quelle quattro. Ci dà un po' fastidio che è arrivata anche la talpa, però vabbè. Eh, ma io non ho preso niente all'inizio, perché ero indietro. Guarda, si ha preso tutto. Mmm. Eh, invece il vecio mi è saltato sopra, quindi... ...di sotto. Ti ha scompato il vecio. Lo stanno... Eh, è puro, però piace il ritmo. Il colpo di scena. Il colpo di scena è disconnected. Turno 5. È già quasi finita la partita e abbiamo preso una stand. Oh no, è dark dead. Un amico. Dove cazzo è? Chi c'è lì? C'è... Boh, non so che curva è. È poco destinata dal veci, non so. No, è quella... Può essere all'inizio o alla fine? Ah, ok, no, ci vuoi. Io e Warritz vogliono davanti. A meno che il vecio non fa un tubo. Com'era il meccanismo dei giri? Eh, ogni giro ti da... Ti danno i soldi. Sì, ogni giro ti ne diciamo il tempo in più. Sopra ti danno gli oggetti, però devi pagare. Ma quindi Ness, se passi sopra non ti conta il giro? Eh, non ricordo, sì. Ho visto anche in altre partite. Cioè, se passi qua sotto col dado turbo che salta l'evento, te lo conta. Ma se vai sopra no. Cioè, te lo conta ma non... Nel momento in cui passi non ti dai soldi, però devi fare l'altro giro. Eh, però se tu passi sopra comunque... E poi dopo... Al giro dopo ripassi sotto ti da venti monete, no? No. No, io sono io... Non lo contavo. Se passi hai vitto. Allora, attentino, no. Eh, che siete tutti vicini col partner è una brutta roba perché continuate a rubarvelo. A vincenza. Vabbè, vediamo che cosa fa Nike. Io in realtà ho il fungo, quindi se tiro bene Warz non mi raggiunge. Quindi va bene. Ah, il tubo così? Apri e ditele, vai. Eh, lo metti vicino alla stella, ha fatto bene. No, no, cavolo. Ci sta mescendo tantissimo. L'ha messo nella stella sbagliata, sì. L'ha inculato. È che senza stelle non possiamo neanche rubarle, qualcuno dovrebbe trovarle in un cubo nascosto. È tornato dove stava prima, fai dite. Sono sentito nel più indietro. Eccolo, eh. Ma era tutto uno script. Ma scusa, non c'era stato lì? Non è partito da lì? F***a, ma sono enorme. È un po' più avanti. Sono tornato indietro, grazie. Prova a fuggire. Eh, buono pasto. Un buono appollo. Minchia, magari. Bravo, l'hai toccato tu. Eccoci. È tutto tuo. Preferivo un appollo, eh. Bu. Rispetto a Redacted. Madonna, è incazzatissimo. È un guario, madonna. È un guario, madonna. È un guario, incazzatissimo. Determinato. Evviva. Ah, con dei pugni. Ah, action. Che madonna, che bombardamento. Vantaggio, quindi, lo dobbiamo menare di brutto. Sì. Sì. Ma qua è difficile, perché tre punti sono tantissimi. Eh, però possiamo prenderlo a pugni. Dai che invece... Eh, che cazzo. Vi stavate parando. Mi stavate parando, per forte, dalle palle. Non c'è un caso, ma spesso gli angoli in basso sono dissicuri. Sono stato stravo. Oh, vado. Cioè, mi hai salvato un'altra, mi sape che mi hai spinto. Poi. Vabbè. Questa parte è una cosa. Cugno. Ma io questo non so com'è. Ah, sì. Madonna, che bullismo, eh. Eh, vabbè, abbiamo perso di mira in tre. Eh, vabbè. Che cazzo, no. No, no. Vabbè, per me la mia partita è mele. Le arance. No, poi le son mele. Eccola, una per me. Ah, sì. Ah, ma puoi picchiarti. Ah, stavo schiacciando il tasso sbagliato. Eh, vabbè. Stavo schiacciando B di nuovo. Anche qua è A, quindi. Vedi, è A. No, no, devi solo... Ah, è inculato, è inculato. No. Ahia, questa è dura. Oh. Ahia. Non è proprio bravo, vabbè. No. E direi, cosa succede? Ma cosa succede e cosa adesso? Cosa devo fare? Non mi pugnavi, così vedevi invece di arrivare. C'è la pappa. Oh, sta puntando bene, quindi io andrò qua. Oh, io mi non posso dire, scuola. Pensavo avesse meno range laterale. Ma se ti metti dietro di me non ti prende, oh. No, vabbè, vabbè, forse sì. Vabbè, forse sì. Non ci sono tutti. Eh, ha vinto un S. Yeah. Non potevo scappare. Bellissimo partner. No, ho sbagliato tasto, stavo premendo B per quello dei palloncini, non succedeva niente. Sì, partner, try. Che coppia. Aspetta, Odo, cos'è che mi fa fare partner? Ripetemelo. Vabbè, io vado a comprare tutto questo. Noi poi scopriamo se... Scegli oggetti, vabbè. Un bel giro. C'ha ragione. Che pale, posso fare più di tre, per favore? Magari c'è un più con la scoppa. Ah, però mi fa volare a sta cosa? No, devi essere su verne. È l'atterraggio, questo. Brr. Tord da circo. Il bescio da circo. Vittino? Ah. Oh no. Come lo zoom. Ma lo zoom è gigantesco comunque. Sì. Ok. Ah. Una coppia mista? Non va bene. Ecco lì. No. Eh, gli elementi sullo sbondo non si... Uh, gli hanno 90. Vabbè, non trovo. Ma ce ne stanno due, disti questo, mi sa, mi ricordavo. Forse. Eh, ma non so se è sempre uguale. La scena. Ma qua ce ne stanno due, disti uno. Ma cosa sarà questo? Oh, questa volta? Questa volta sarà buono. Non sai. Io non capisco sto gioco, ovviamente. Ah, vittima. Vabbè. 93 addirittura. Dov'è? Oh, so. Ah, ha trovato. Ma non c'è il tuo da dove... Ah, sta arrivando. No, cazzo, via via. Anche il mio si girava. È troppo presto. No, ti ho fatto male la prima, bravo, dai. Non avevo zoomato bene la prima. No, talpa non ci vede, come stava a fare il tuo da? Ma per cui è anche una canzone del sole? Canzone del sole che cazzo è una roba cristiana? Oh, sole mio, cuore mio. Quella roba napoletana. Ma quello è oh, sole mio. No, oh, sole mio lo so. Canzone del sole mi manca. Cosa è quella di Zelda? Sansong? Che panza sta talpa, è piena di Apollo. Via, via. Dov'è comprare il doppio a questo? Passi dai. Otto tubi. Vabbè. No, c'è otto tubi, otto dani. E anche il turbo, visto che sto facendo un sacco di passi, mi assicuro la stella passi. E Battisti? Eh, io... Stavo da vecchio. Un maggior domo? Ah, queste robe da vecchie. È un cantautore, nè. Cioè, io inizio con le Spice Girl, nonno, di cantautore. La donna quando ci mette sta cosa? Esatto. No, pensavo stesse crashando il gioco, e non mi ricordavo ci mettesse così tanto. Anche questa, va. Quanto ci fa? Let's go. Let's go. Oui. Posso finalmente rubare una stella. Io ruberei Warz. Che non l'ho preso. Sulla fiducia. Dai. Vedi, ti tenta anche, hai visto? Ti sfida. Dai. Sì. Ci vieni, questa bella animazione. Quella è Warz che cerca di scendere dalla macchina. Con l'ombra dell'albero è una pelle scurissima, Wario, per non dire altro. Esatto, stavo per dirlo. Invece sta stampando? Beh, in realtà adesso Ness prende due stelle, quindi Ness sta stampando. Sì, vediamo. Ficchiamo questo tutto. Guarda, l'Apollo. Stai pieno, eh? Pieno di Apollo. Minchia, magari. Bello, utile. Vabbè, lo tirerai a Warz, eh? Va bene, questo è molto buono. Minchia, non è un gioco di merda, non è un gioco di merda di ieri. Cioè, il boss sumo pro blitzers. No, che cazzo scioglio. No, questo non è il boss. Questo. Ah. Ok, falle. Adesso che tocca e falle vinci di brutto. Ma che vinco di brutto? Questa è la cosa che sbaglio, in cui muoio subito. Eh, adesso va. Eh, che cazzo, mi è arrivato... Cioè, non c'è muoio. No. Oh, wow. Stavo quasi facendo il casco. Beh, è l'ala. Chissà se queste onde è stato... Eh, adesso è pieno di soldi, può... Mi causano la caduta dei capelli. Eh, ma adesso sei pieno di soldi, puoi pagarti il... Trappianto. 100 precise. Io ho perso due moni. Che succede? Resperito il WS. Riesco a fare più di tre? Se fai tre fai dei Bowser. No, non ce la faccio, ragazzi. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Allora, c'è anche la cringe cam lì che ti riprende. Hai visto il video lì? Beh, potrei... Posso maledire Warez che fa chance time o Bowser. Eh, un Bowser. Sì, sì. Mi sembra una prospettiva interessante. Beh, potrei farti vincere, perché meno passi ce l'hai tu, ti metto il bonus Bowser. Ma infatti, fallo. Tipo tutte le monete, brugnole. Ma, ma... Ecco le hitbox fasulle. Sì, nooo. Le hitbox fasulle... Anche Rosalinda, vero? Beh, lei è sempre stata la regina delle hitbox sballate. No! Ho preso un cazzo. Sto rimasto a saltare sulla terza. Madonna, Ness c'ha un po' di ardi di soldi, ragazzi. Bisogna incularlo. Si può fare due problemi. Beh, vi ricordate qua, ho fatto 450 monete. È la prima partita. Bisogna ammettare che cosa si ripete. È contento, Juanluigi, può farsi il trapianto. Sì. Finite, finite. Ok, vediamo che casella interessante si fa. Eh, niente. Io mi ne fanno. Sceglie quale delle due blu hanno uso la... Il cubo nascosto, secondo me. È la numero 10. Perché c'hanno il suo stampo? Taglia. Le due ste... Quello no, quello sì. Quello no. Quello no. Eh, lo sto guidando, non posso tagliarmi. Ma io manco ce l'ho. Ah no, ce l'ho. No, non ce l'ho. Che cosa? Il Stiger. Questo? Stiger. Eh sì, mi mancano. Ah no, ce l'ho. A me mancano quattro da comprare. Cioè non ce l'ho proprio... ...comparse nessun'altro. Ne sta stampando. Perché tutto sto tempo. No, no, ma una predict... No, no, sì, io tolgo però il coso del... Cioè, torniamo alle predict casuali che facevi. Così ti diavrati. Perché sei andato in depressione dopo quella regola. E io volevo fare una cosa un po' più logica, no? Invece non pensavo di avere un impatto morale così pesante su di te. Vedi come si fa a fare i punteggiati? Eh, decidi. Non sono rossa o mi dai dieci monete? Che belle. C'è il bonus rosso e sopra compri tutti i dati. E rinunci a giro. Eh, ho questo giro, Ness, ma chi se lo incula? Ti riempiono di roba. Eh, bisogna fare giri. Allora, io da qua sì, ma le dico Warez. Mi sembra una cosa divertente da fare. Quindi la faccio, no? Cioè, per lo spettacolo. Ma io sto contento, infatti. Adesso diciamo, becca di questo. Cioè, alla fine mi dai il bonus veramente, quindi. Eh, ti sto aiutando. Mi becca di questo. Tanto le stelle da verde non ce l'ho. Faccio anche la rossa. Ecco, io non c'ho lo stiger becca di questo. Eh, dopo ho compi tutto. Eh, ho compaduto quello che potevo comprare. Non mi ho usato. Bowser, beh, fare una bella revolution a me va bene. Se ci vio non potevi, tipo, rubavi l'SLMS. Eh, no, c'era poi l'ho visto. Ecco qui. Eh, revolution a me va bene. E vabbè, capirai. Comprate i nonno sticker, ma sono solo due nonno. Eh, infatti, purtroppo sì, sono solo due. Questo. Questo è il nonno che dice al tizio a cui hai venduto le medicine che starà meglio. Ora, sganci. No, 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 non è così. Ma no, no, io ne fotto un cazzo. Cioè, vuole che muoiono tutti. No, se muoiono tutti, non gli comparo la roba. Ah, guarda, tutti i rossi. Ah, quello è del rotolo bill, questo? Eh, ma qui è Ward, che l'ha abbato bene. Ma sei tu sopra il coso. Eh, appunto, cosa sei accusato tu? Quello da gruppo non lo faccio. Beh, basta che non siamo vicini. Però all'inizio dobbiamo sopravvivere almeno due round. Che è abbastanza improvabile. No, lo sapevo che avrebbe seguito Wares. Uno a caso. L'importante era stare lontani da Wares. Cosa fa la palpa? Dai, non sto una tappa sola. Dai, non sei così tenera. Abbi un po' di pietà. Non credo che abbia pietà. Volevo trovare questo mind girl strano che dove non mi voevo affatto, ma non ha funzionato. No, ma quando c'ha due turnie, non sopravviverà. Eh, niente, ho predictato la protex giusta. Altri capelli. Ha sempre più raro. Il sole che si riflette sulla pelata. Quando ero sul razzo, ho proprio sentito il vento tra i capelli. Sempre più capelli. Guardi, è un po' spaisato. Ma lui dovrebbe cominciare pelato e man mano che vince stelle, gli compaiono i capelli. Esatto. Ah, figa, è già finito. Eh? Ok, corriamo anche se salto V. Tanto non ci sono stelle da rubare. No, no, questo per te è il momento perfetto. Adesso no. È bello. Eh, peccato voi due. Va bene, 24. No, dovrebbe sempre muoversi così il gioco, però. Ah, lui ho preciso davanti che fanno pure soldi. Non sa. Sì. Sì. Laggiù? Adesso andiamo laggiù. Lo ho con calma. La piccola cosa, sì. Stiamo tirando un po' di merda, comunque, a parte del resto. Fusciano sicuramente la stella più inizia. Ah, hanno aggiornato il negozio, però non ci sono i tubi qua. Non mi ricordo che cazzo c'è. Ancora? Non finisce mai. Quanti Apollo. È il coupon Regina. No, tiriamo proprio di merda, però, porca pucca. Mamma mia. Ah, da dove ho? Ah, però... Il cammino della moneta comincia. Eh, però devo togliere qualcosa. Devo togliere qualcosa. No, no, sì, sì, lo prendo al cammino della morte. Eh, vabbè, tolgo il ticket, tanto è l'ultimo. Eh, ma è troppo grande questo livello. Il cammino della morte. Ah, ho detto di no. Eh, però, sono tutte strade... No, secondo me è buono qua. Sono tutte strade fisse, a parte i bivi sopra e sotto. Eh, ma è grande a bivist. Eh, sì, vabbè, però. Ci provo. Tanto non sono sicuro di finire un giro per la fine della partita. Eh, se fai uno fai un'altro bonza. Eh, sì, farò uno sicuro. Non è un toplerone, cosa c'entra? E invece... Serve roba. Ah, roba. Fai a comprare. Dammi un po' roba forte. Tutti col cappellino giallo, che figli. Dai, questi mi danno qualcosa di potenza, lo sento. Ecco l'amica. Lo derubano e gli tolgono i soldi. Eh. Madonna, come gode. Adesso magari riesco a muovermi un po'. Uno, 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 uno. Il cappellino girato, esatto. Ah, mega dito showdown. Eh, ma adesso è diventato bravo Ryan. No, l'altra volta hai vinto, Nike. Dipende se oggi hai preso i farmaci per il Parkinson o no. Se non li hai presi, vinci. No, che non li ho presi. Allora vincerlo. Allora vince. No, io sto facendo schifissimo. Ha fatto il più schifo del normale. A un certo punto ho premuto anche R. Spero che non l'abbia interrotto. In realtà scopriamo che R ti dà dieci. È dato trenta punti in più adesso. Sì, non ho ricordo per me. No, ho anche fatto schifo. Ha fatto quasi come un brugnolo. È mazza. È fatto cagarezza. Ammazza se sta in forma il Parkinson. È in formissima. Devo riuscire a fare 120. Io ho A che sì. A volte non torna su. Ma è che sai che? Non mi ricordo che fosse sul mio save di Mario Party 4 c'è il tuo... Avevamo giocato a Sassu, quindi c'è il tuo record di tipo 120, mi sembra. Che ovviamente sto a ricordo. Dovrei ricontrollare. Io nel Megadito non riesco a farlo comunque. Cioè non mi sta il dito sul tasto. È troppo picco. Io non capisco il vecchio che dita ha. Cioè si si rimpiccioliscono sulla punta. Sì, sì. Degli artigli. Vabbè ma colpisco col pastrello dell'indice. Basta. Oh, vabbè. Cosa di buono. Yeah. Beh, beh. Molto buono. C'è un ciù? Oh, no. La stella pochi passi è apertissima comunque. No, no. Oh, nice. Buono temati. Oh, nice. Adesso posso andare laggiù. Vai pure. Dove? Laggiù. Laggiù. Laggiù? È il momento del cammino. 11. No. È fattibile. Prendo la stella e poi metto il cammino. È già. È un tiro fattibile. Quindi ci vado. Chissà quando mi si... Anche perché il cammino se riesco è meglio dopo V. Beh, sì. Eh, sì. A me non fai U. Eh. Me l'avete quasi tirato. Come se lo vola. Dove? È giù. È qua, giù. Esatto. Da me non. No. Non mi do. Non capisco il nesto tra lavare e pigliarmi oggetti. Eh? Devi andare dall'autolavaggio giusto, nonno. Mmh. Ma il stesso tirerà il turbo. È il turbo. Ma Luigi sta... Devi fare meno di 28, però. Farà 29. È bello. Eh, sarebbe divertente. Ha tirato bassissimo finora, adesso farà... No, fa 28 preciso così. La schifpa comunque. Fa 40 e vince la... Passa da meno passi a più passi, solo con questa cosa. Eh, ma... Eh, però... Attenzione, attenzione. È usato. Eh, eh. Ma erano gli stessi numeri che ha fatto Ness, tipo? Beh, dove devo andare? Dove? Sopra. Ah, sapendo pure. C'è il telefono. C'era il telefono. C'era il telefono. Eh, magari te lo rimetti qua. Ti metti... Perché sei ultimo, ti danno qualcosa di forte qua. Ecco. Non lo voglio. Eh, però questo è mega... È mega caso. Che pale. Mi dà sicuramente una merda. Cerca di non farlo andare a lati. Vabbè. Ecco il lati. Oddio, oddio, oddio. Oh, va... Eh, ovviamente. Devo duellare qualcuno, sennò... Non si spizza bene. Eh, mi... Mi dati col vecchio. Vediamo, vediamo. Che cosa? Volete? Che c'è fatto? Eh, tutte le monete. Guarda. Minigame. Gioco. Gioco. Basta chiavi. No, è l'ora dell'Apollo. Il tramezzio. Apollo pesante. Oh, kidoki. Oh, kidoki. No, questo è mio. Cos'è questa range di tramezzini? Oh, kidoki. Oh, kidoki. Oh, madonna. Oddio. No! Mamma. Ma quanto dura, figlia? Quanto dura, oh? Ho paurissima. Minchia! Ho inculato malissimo Juarez! Che schifo, madonna! Juarez, sicura! Sì, ho preso un tramezzino in testa. Buonissimo. Scrittato, è scrittato. Beh, però questi tramezzini sembrano buoni per la ricrescita dei capelli, comunque. Sì. Stanno venendo i capelli lunghi a Varuigi, tanto sta stompando. Sì, direi partita più buona di sé. Oh, che c'è? Daisy! Oh, non è mai uscita da Varuigi. Daisy! Ma come balleccia? Che c'è lì? Per cazzo? Eh no, siete andati tutti sopra, non so, non so. Sono tutti lontani. Daisy viene sempre ignorata. Oh, grazie a volte. Come è giusto che sia, userei dire. Ah, adesso fai disconnettere Juarez, prendi la stella. Oh, no. Devo fare tipo 9 di... Eh, non è 10. No. Vabbè, almeno faccio la spesa. Eh, io dico che... No, oggi si mi pare. Oh, no, l'evento. Ah, è giusto, l'evento. Sì. No, povero Juarez. Oh, no. Disconnected. Eh, sì. Guarda, guarda. Ti fa disconnettare lui. Lo sniff. Amico delle guardie. Tu me l'hai fatto prima. Mamma mia, raga, quante vendi... Vendica. Madonna, che tutti veri, ah? No, sono tutti vendicativi, portacuttana. Fatevi una camomilla prima di giocare. Beh, pensavo fosse una festa questa. Eh, infatti. Invece è proprio una festa. Ecco, sei sei. Eh? Ah, esiste la carta blocco? Non so neanche si stesse. Beh, però ti rimette roba... Sei terzo, quindi ti rimette roba forte. Magari ti dà gli stessi del roba... No, c'è il telefono. Questo è un sacco di tempo, Nike. Hai 30 secondi, quindi puoi farlo... Piano. Invece l'ha subito snipato. Il rossico si ride. Devo farlo immaginare. Moshi, moshi. Ah. Dov'è? La giù. Ah, ma posso mandare un avversario. No, sto proprio lontano per tirare una trappola, quindi devo tirare così. Eh, che palle. Poi ti può aspettare che qualcuno prenda Daisy come partner e poi chiamare Bounza. Così se capita giusto. Eh, ma non penso che lo fa due volte. Ok. Ok, è successo il vecchio, eh. La prima partita. Ho chiamato Bounza e è andato da lui che aveva il partner. Si è subito due bose. Sì. Ho mai fatto l'ora di dimenticare questo momento chiave. Non vi ricordo neanche... Ma se tipo, se io maledico Ness, lui col dado magico annulla l'effetto. Esatto. Sì. Poi la pianti di chiamare tu ogni oggetto del gioco dado magico, guarda, se non si capisce una minchia. Eh, non mi ricordo. È dorato. Sì, ma tu dici dado magico ogni cosa che sia un dado. È magico. È magico. Io farei un dado magico. Vediamo, l'edizione non serve a un cazzo. Ogni oggetto. Un duello magico. Un duello magico. Aspetta. No, qua... Cioè, dovresti arrivare a V, onestamente. Ce l'hai davanti. Quando ti ricapita, eh. Hai usato il dado magico. Quello è proprio il dado magico. Questo è magico. Doppio. Oh, mi sa che arrivi. Andrò da Bows. Sì, perché ci sono... La fine della pista sono un chance time e due balls. Potrei subito chiamare Bows e prendere da Warz. Eh, ma non scegli tu, va a caso. Però potrebbe andare da Warz. Allora. Ah, va a caso. Questa mattina possiamo vincerla... Beh, in questo momento la sta vincendo solo Ness, eh, quindi... Sì. Quindi, appunto... Puoi garantire che vinca Ness, sì. Invece farò questo. Farò una stronzata. Ecco. Ah, ok. Va bene. E tanto se la riprenderebbe dopo, quindi non mi serve, non pagliela. Cioè, 0.50 nonete, praticamente. E in effetti non è male, come ragionamento. Però senti mesciare? Non ho mesciato neanche una volta. E infatti te l'ho tolto un botto, adesso. Eh, vabbè, tanto può per me. Siamo di più. Poser, sì. Ecco, l'ho detto, beh. Così da pure... Beh, io sono ancora... Revolution mi va ancora bene, ma... No, ha fatto il tipo bene, perché se me la rubava e poi la perdeva qua, era un po' da disconnected. Ho tenuto nelle monete, però. Ancora altre venti monete. Le mie venti monete. Che due. Un bonus doveva avere, probabilmente. È bellissimo. È proprio come mi sento in questo momento. Come ti senti, Warz? Doh! Adesso vorrei poso dei tirapugni per stavone. Eh, c'è. E invece... Eh, invece io prendo le scimmie ritardate. Che palle. Vabbè, ti piaceva tanto King di Kong, ora ne hai quattro. Ho pidocchi, ora di morire. Ho i pidocchi. Ho i pidocchi. Vediamo quanti secondi duro. No, la scimmia ti ha protetto. La scimmia è proprio ritardate, cioè. No, vabbè, ti ha protetto dal mio colpo, quindi ti ha aiutato. Vabbè, comunque non sarei durato più i 10 secondi. Quante monete. Vabbè, si è abbandonato al suo destino. Wow. Vabbè, però se... Effettivamente se Maledivines lo mandavi su una verde, per forza saltava B. Eh, sì, poi ho il dado magico. Ah, già, è vero, ho il dado magico. Proprio quel dado magico. Eh, sì. È magico. Dai, guarda, se fai qualcosa è utile, eh. Oh, finalmente posso fare qualcosa. Mettici in time. No. Aspetta, le monete? Le monete per me è una stronzata, poi fai tu, eh, cioè. Perché è una stronzata? Perché stai potenziando Ness ulteriormente. Eh, vabbè, ma tanto è... Allora, ormai Ness è potentissimo. Eh, ma i soldi alla fine ce li abbiamo. Boh, fai quello che vuoi. Appunto, è potentissimo come lo batti, c'è in time. Metti Waluigi ogni volta. Esatto. Ti scambiamo. Se no, boh, le trappole. Riempiamo tutto di trappole, però quelle ce le prendiamo anche noi. No, lo sai che vi dico? Farò questo. Va bene. Wow. Grazie. Perché io pochi ne avevo. Io butterò il cellulare. No, butti via il regalo di Warat così. Sì. Beh, poco gradi... Oh, buttano tutti e ne si no gradisce. E so. Quindi, quindi se la teno da lui. Buttato immediatamente. Sì. 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 Va a vedere che c'è qua. Eh, niente. Se è valorizzata, non lo si chiama. Ah no, aspetta. Vediamo se... Eh no, il dado doppio me lo tengo per dopo, per... Faccio dieci, così mi avvicino alle spazi pose e poi uso il doppio. Come faccio come la CPU, il dado dorato solo per far dire c'è. Beh, io ruberei Warat perché ti ha appena rubato 18 monete. Eh, ma io non sono Warat. Adesso lo fa. No, invece vuole vincere. Esatto, voglio essere forti... Voglio quei capelli. Quei capelli non me li danno, grazie. Beh, infatti la tappa vista così sembra avere una bella pelata, devo dire. Eh, infatti, voglio il suo colore. È pelosa? Quindi di peli ne ha. Pelata. Moshi Moshi? O... Farà una telefonata? E ora di mo... La telefonata puoi tenertela anche all'ultimo turno. E invece... No, infatti... Ma io se aspetterei che qualcuno abbia il partner, Daisy, se ci arriviamo. Bello! Vabbè, vabbè. Mamma mia. Laggiù? Salta pure il negozio. Salta pure il negozio. L'ho voluta fare io questa pista, poi. Sì, ma io so. Potrei essere andato da Bowser con sta mozza, però... Ah no, ci tenivi proprio a quella stella, vabbè. Riprendita. E' che effettivamente le trappole non le metto più, però... Dovevo tirare meglio in sti due turni prima di questo, che mi posizionavo lì e le mettevo... Vabbè, non potevi controllarla, tutta questa roba. Non potevi farci niente. Bowser? Eh, mi stai quasi. Di mo... Dicevi Apollo. Eh, è un fungo Apollo. Io mi... Automobile, per fare il duello con Ryle. Aspè, ma c'è ancora Daisy? Ah, sì, sì, puoi arrivare a Daisy. Un poco più avanti. Aspè, però, chi c'è dietro di me? Io. Eh, c'è la tarpa, me la intiua dopo. Beh, se tiri bene ti allontani parecchio. No, Ryle è andato su, devi andare giù per Daisy. È giù? Sì. Là giù? Eh, ma me la frega dopo, però. Beh, dipende se va oltre. Dipende come intiro adesso. Eh, puoi decidere, sì. È chiaro il tuo bene. Penso. Guarda dove vai. Magari sei ancora sotto? No, sono troppi. Guarda, eccola, vedi? È proprio là. Aspetta come una lucciola, proprio. Come una troia, una lucciola. Ai lati delle strade non ci sono le lucciole. Boh, non so se è un allatto. Allora, il fatto è che, allora, se vuoi vincere, effettivamente prendere due stelle ti conviene. D'altro canto, effettivamente la strada è un po'... C'è un po' tanta gente, effettivamente, che sì, te la posso rubare. Vabbè, ma dura poco quando è arrivata la stella. Cioè, se neanche capisco di non arrivarci, quindi... Riscrivi, prendilo. E poi... Cioè, adesso ha la regla a casa del telefono... Che ci arriva Bowser, che c'hai Daisy. Gli oggetti... Ah, gli oggetti sly. Ma li voglio cambiare. Te ne dà uno, eh? Non te li fa cambiare. No, come no? Te ne dà uno solo. Ma l'ha fatto anche prima, Juarez. Prima sono dato io che avevo una cosa, me ne ha dati due. Eh, penso che non ne dava tre e cambiavano. Eh, se ti dà W anche qua. No. Ti riprendi i soldi della scama. Eh, quando lì si me l'avrebbero puttata subito dopo. Beh, non è detto, eh. Metti che io facevo uno anche col fungo. Eh, vabbè. Oddio, che palle questo è lunghissimo. Penso proprio una palla. E se... E forse... Cambiasse ogni volta, invece c'è sempre uguale. Ma come tu, Juarez, deve saltare, deve saltare continuamente. E poi muore alla fine, è di brutto. Se non prima. No, ma Rosalinda con la bocca aperta. Aspira l'aria. Eh, è bruttissima. F*** io. Non è ancora detto Goomba. Goomba. È vero, devo iniziare a riprendere Goomba, Wario. Sta portando a sigla, eh, sì. Oddio, l'agg. Ho avuto un calo di framerate molto importante. E un calo di capelli ho avuto. Che palle, sto minigio. Sì, è un buon merda, onestamente. Sono più brutto di tu. Sono più contento. Daisy, non cagata. A meno che... Eh, forse ci arriva lì. Nessi va perché vuole il caos. Bravo. Poi mi dice che il Bowser è doppio, ma... Non è detto che la vinco io, Daisy. Vado su un evento. Che evento è, scusa? Quello che gira le piattacune... Ah, quello che mi fa saltare il negozio. E fa uscire la... Cavolo! No, mi fa saltare il negozio che è il potere dei Daisy. No, mette il negozio di nonno, non è mica lo toglie. Non è che lo toglie, Ness. Esce un altro negozio. Ma è l'evento che mi fa saltare la strada? È il trampolino? Ah, tu adesso vai sul trampolino, non ho capito. Guarda su. Eh, sì, quindi mi fa saltare il negozio che è il potere di Daisy. Quindi vabbè. Peccato. Vabbè, però avrai Daisy. Avrai Daisy? Sì, non sei contento. Eh, se sei stato più contento, se... Se sei potuto usare il suo potere. Questo l'abbiamo fatto una volta. Sì, sì. Nella prima partita. Ma è facile, devi solo prendere le monete. Infatti no, Daisy non esce mai. Valgono di più. E sono quattro stage, però sono tutti platform abbastanza facili da capire. Cioè, esce sempre Luigi e Luigi di solito quando tocchiamo noi. E l'ho presa io, poi. A me non sta tirando niente, tipo. No, no. Dov'hai te l'ha tirata in testa? Eh, grazie a cazzo ne avevo prese due. Sono tutto veramente vuoto. Eh, adesso lo stiamo facendo. Eh, sì, c'è tanto RNG in questo. Ah, questo è l'altro. Questo è il pop guide. Il pop guide è lo spesso. Il pop guide è lo spesso. Il pop guide è lo spesso. Ah, sì. Ah. Ah. è che è questo? si vai dove ci sta stompando inghiotta di apollo magari tira sta pollo sta puttana bravo rai che grassa e perchè tu invece con quel culo gigante manco uscita la grassa tanta grassa grassa talpa io sono magro grassa talpa e adesso puoi vestirla magari peccato eh però ti prendi i soldi ness quella ancora più capelli ok se capo di uno preciso beh il bonus verde è tu adesso si ah se è vicissimo la stella beh col doppio non è proprio vicinissimo a partire lui deve decidere se droppare una nuke e in invece andrò laggiù vabbè che fa la stella merita stella merita ecco inizia lo script che fa vincere nike ok abbiamo capito ah daisy cazzo facciamo qua mancano tre turni dopo questo è che se supero effettivamente se supero war mi ruba daisy da mia wincon e fare due stelle con daisy quindi io quasi quasi sto turno tiro normale non però non non tiro fungo adesso ebbè per forza metterà a metterà che lì è una strada obbligata eh è troppo quindi la prendi tu warez prenditi sta troia forse ah non mi sconta qua sta puttana lo deve far pagare i venti però eh 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 potreste fare un po' di meglio eh ah no dietro warez e giro tutto nooo giro tutto per due turni stacca da finire più di dieci non poteva fare warez mi piaci ah però adesso ho messo che si può luppare si può luppare il boo come nel momento ah praticamente le le catapulte si sono ah per prendere daisy tutta sta cosa ah si beh ci sta ma tanto tu farai u eh beh io per forza tiro tiro un dado eh ho il doppio del fungo e lo tiro e adesso c'è un loop col boo sostanzialmente dopo il boo vai sulla verde torni a prima del boo ma pensate che mi tocca fare per fottermi quella cazzo di troia e poi non me la fotterò tesori sottomarini tesoro ah ti ho tesoro ah dobbiamo prendere la merda sotto si la merda no sono i forzieri pieni di merda ultima volta sono annegato e mi hanno rubato il forziere sembra una storia triste oh ma che cazzo ma salta di merda mo ti faccio andare ad addossare le cose fanculo non me ne frega un cazzo di prendere il forziere l'importante è che non prendi prenditi lo spado no 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 ecco crepa vaffanculo pezzo di merda che schifo che schifo mi fa schifo tutto mi fa schifo tutto qui nel mare no 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 odio odio tutta la vita sottomarina ah ma ce n'è ancora uno e tutto ciò che contiene bloccatelo bloccatelo certo che lo blocchiamo guarda che affoglio guarda che affoglio guarda che dopo un po' anneghi appunto appunto è quello che vogliamo crepa quanto respiro ci avete? abbiamo i polmoni grossi ecco ah magari nego? la farà negare te l'abbiamo detto tre volte Wares ma pensavo madonna che gioco realistico troppo realistico ah ha fatto bene ne è valsa la pena morire ne è valsa la pena morire? mi piacerebbe sentire questa frase però dal vivo Wares cioè dal funerale di Wares c'è scritto ne è valsa la pena morire comunque nonno dice Wariooo usa il dado magico magico quello quello eh quel dado magico no la mia win condition è fregami quella puttana e cercare di arrivare alla stella ma no non ce la faccio perchè è scrittato oh uno uffa uaaah comincio a fare i vostri trattori uaaah laggiù lo userà lo userà no lo userà alla fine lo userà no vabbè eh si così non ci da eh si però nooo vabbè questa è la partita peggiore della vita di Nike ah vabbè ho ottenuto la stella dal loco nascosto eh però può andare a rubare tra poco adesso farà uno ah stella è a 25 quindi non ci posso arrivare posso anche fare posso andare sulla verde e torno indietro e Wares mi prende Daisy effettivamente vabbè Amen pigliate la sta puttana ok però adesso adesso provo il doppio tre due ok oh quasi quasi proprio davanti a me me la metti no non me la prendi neanche non me la prendi neanche che schifo eh però mancano due turni figa cioè il bello è che ho usato il doppio però io non devo duellare nel senso devo tenermi 40 monete non posso rischiare qua me ne da 6 hai paura brognoli ho paura si Wares perchè vado sotto 40 poi se ho ancora Daisy ma e la vado 70 ore i minigiori dai ah già dopo puoi usare il guanto e puoi incularmi è vero mi hanno detto che lo farò a te eh no allora per l'opzione che me lo fai mai io metto uno che fifone eh ma questo è uno schifo questo è proprio da culo cioè non ci capisco un cazzo vabbè questo vale per qualsiasi cosa che tu faccia nella tua vita anche anche però cioè non ho idea di che cazzo vuoi fare puoi copiare Wares però io non è che sono sicuro eh eh manco io vabbè più o meno ho messo come in te mi sa che va troppo a destra che palle no no si era addrizzato il mio in realtà va bene no il mio no è il mio no è quello di guarda fa zero il mio vabbè che schifo mi sa che è impossibile fare zero se sta tutta di lato forse si brutto beh puoi riduellarmi subito se vuoi no no non ti duello perché so che perdo sicuro quindi non lo faccio no vabbè non ne è e se esce quello delle righe magari esce quello delle biglie delle biglie eh io non ho più l'hitbox di rosalina non ho più l'hitbox di rosalina quanto cazzo ci metto? ce la fai? ma pensa che è inculata sta roba porca puttana eh però aspetta io mi eh io mi sono inculato tantissimo questo dado sotto tre di merda porco dio eh la mia wincon era no t'ho tolto una moneta come t'ho inculato tu sarai un duello o linee contro Nike così non mi ruba la steve eh ci ha inculato tutta luna lo fa su serio? si ah lo fa su serio? ok un duello con Nike lo sai che facendolo e vinci aiuti solo me a te non serva niente che non rubi la steve eh ma se tu dici una cosa a Warez lui la fa no a me interessa solo fare il duello allora facciamo no 86 i soldi li decido in base a cosa? secondo me all'età Nike quindi 86 secondo me lui è convinto ancora di aver sfidato Raed dato che ha sfidato Raed esatto sì anche vabbè ragazzi dopo questo disconnected no dai devi guadagnare i punti beh oh di buona Vietnam Vietnam ma io non lo so fare madonna ragazzo ho paura dopo ieri ho paura che palle 3 2 vai c'è corrido io lì pronto davanti a te scappa 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 non sta nemmeno pronunciando parole parole umane ma che palle insomma è un disconnect giusto gli ha dato 100.000 soldi no e ha fatto comunque due anche il bot comunque eh sì vabbè sempre sempre di Warwats stiamo parlando oddio ah ed è in squadra no con il bot beh dipende dal gioco stavolta i bot qua possono aiutare forse non eh qua no ah sì ok vado da prendere la culata e la miccia io faccio un poca gara questo ah scudo un poca E' un po' brainless. Ah stai, non sto per andare a fare più. No, adesso c'è un po' E' un po' di andare avanti, mi imposta l'incrocio. No, è andato avanti, cazzo. Vabbè, ricco. Eh, vabbè, ok. Mi han tenuto abbastanza. No, no perché non compri in gioco svolgimento? Vabbè, vabbè, però scusa. Allora, al di là di tutto, pensi di avere un quotidian intellettivo peggiore di quello di Watt? Nel fare ste cose? Ah, è già finita sta cosa, ma che scam. Nessuno ne ha... Ne ha giocato. Beneficiato. A me va bene perché posso comprarmi un fungo. C'è un fungo, un dado triplo. E devo sperare però che quel bot di merda non mi ruba Daisy. E' il momento. E' il momento. Adesso va a togliere sei monete. Ok, non è a me, non sono io. No. Ah, è Watt, bene. No, è Watt. Beh, adesso fare evolution ci rovina tutti però. Vabbè, quindi ci sarebbe stato anche il... questo sarebbe stato il prossimo disconnect, se non se ne andava lì. Oddio no. Scompiglio. Vabbè. Vabbè. Eh, scompiglio non era male perché lui andava dove era Ness. Esatto. Vabbè. Telefono buttato. Eh. Inferiamo su Watt. Come se la ride. Potresti togliere le tre monete, rubare tre monete, Watt. Ok, Bush arrivi. E vai su una blu dopo. Guarda questa roba, Watt regala la vittoria. Guarda qua. Eh, può essere. Vabbè, adesso è la rich star sicuro, eh. perché si è fatto cento... e passa monete. È ancora abbastanza aperta. Se lo faccio sempre sui bonus. Io se ne faccio meno una stella, no. Mmm. Dai, figa, per favore. Non c'è una almeno comprata. Mmm, che merda! Dovresti arrivare ora dal negozio. Negozio sì. Ma sta fisarmonica. Eh, Desi... C'è sto concept che Desi è tirolese, per Nintendo. Ti conviene da prendere una scuola. Ti conviene da prendere una scuola. Un'attualizzata non sui tiroli. Un'attualizzata non sui tiroli. Mi conviene comprare cosa? No, uno solo. Ma io tanto i soldi ce li ho. Prendo due che mi faccio... Almeno il bonus acquisti ce l'ho io sicuramente. Mi garantisco quello. No, tanto tiro... È l'ultimo turno. Cosa può andare sorto? Magari prendo quello d'oro. Ma sì. A sto punto quello d'oro. Che cazzo ne so. Perdo tutte le monete in qualche modo. Boh. Il problema è che adesso Wares tira e mi ruba Desi. Devo ripassargli sopra, ecco. Però... Qua va bene, però. Perché sono comunque prima della stella. Se Ness la prende, io posso scegliere l'altra direzione. Ti prenderà il doppio. Uno, uno, please. Non può neanche più. Vabbè, me la prende, cazzo. Ma non va via dopo questo turno, Desi, comunque. Oh, no. Ah sì? Allora era persa in partenza. No, non ho visto, non ho visto. Può essere. Eh, ho fatto tre tiri di merda, effettivamente, sì. C'è un Ictus, Wares. Ma rimane fermo in quella posizione. Il problema è che si è messo, si è messo lì, cazzo. Cioè, se era prima del bivio, io proprio potevo scegliere. Toccava a dire, ragazzi, come lì che abbiamo fatto i tuoi spunti. Se esistesse la Poor Star. E' garantita, no? Appena cominciava a partire. No? La griva tanto c'è. Il bot scambio... Cioè, il bot scambio di subito. Quindi tu presa un'ore di rota. E' un bot ci sta in culana, mi sa che è veramente niente. No, ho recuperato un E. Ok. Ok. Ottimo. Che schifo. Quanti capelli pelata nello spazio Rifletto la luce del sole Nello spazio nessuno può vedere che sei pelato Sì, comunque è durata pochissimo Effettivamente potranno provare anche 20 Sì, forse più che altro questa Ma sai cosa? Questa è la prova che le animazioni veloci di movimento Fanno tanto per la durata della partita Perché qua anzi ti muovi un sacco Un sacco veloce si muovono rispetto alle altre piste E aiuta sta cosa Infatti sono appena le 10 e mezza Contiamo che anche Juarez non si è fesso tre ore ad ogni turno A pensare Vabbè, no, però secondo me conta tanto il movimento qua Comunque questa, essendo una pista lunga Ci sta meglio con più turni Cioè poi il fatto che ogni giro prendi più monete A quel punto con tanti turni diventa più strategico Ah, io purtroppo speravo che Nets facesse tipo uno Perché così rubavo Daisy Invece devo andare giù per forza Oh mio, qui c'ho poco da pensare Wow Beh, almeno skipivo Wow Eh, ci sono due blu inesplorate mi sa Oh no, quella a destra è stata presa Eh, chi si ricorda dove era l'ultimo No, l'ultimo cubo l'ha preso Nike in alto No, qua Allora, sono più terribile Non era questo Beh, dai, col triplo Eh, sì È fattibile Anche prima era fattibile fare più di tre col doppio Eh Eh Eh, vabbè Attenzione Ok Ok Vabbè, dai Eh, però porco dio Wario di merda Ah, ma non c'è più Daisy È andata via Me la sonversa È andata via Ok, va bene Allora non l'avrei avuta comunque È giusto Faccio una casella oggetto che è inutile però Ma qualche bonus ce l'ho Quindi potrei ancora vincerlo Vediamo che fa Warioz con le sue 18 monete Una rivoluzione Warioz Fa disconnettere tutti Horribile Disconnete Dai che raggiunge la stella giusto per la beffa che non ha abbastanza soldi Oh, fa uno e mi dà nove monete Potrebbe anche farlo No Ma proprio davanti Invece no, si ferma uno dalla stella È una super sfiga, mi sembra Vabbè Che è l'ultimo No, è da me, è sul terzo Ah Ah, ok 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 Quindi tutti contro Warioz Ultimo minigeno No, non voglio star con Warioz Dai, vediamo sto bot Ah, quello De schivare le cose Che cadono Ah sì, quello del Mario Maker Vediamo il bot Sabravo Mi battendrà a caso Quindi non ci saranno le differenze Ah, i bot a massima difficoltà Non sono male sopra Oh, cazzo Bravo Warioz Mi ha Mi ha allangato Il salto Uno fa il salto all'indietro Eh, io non ero attento invece In questo modo vediamo Vorrei quello delle monete però In questo torno Warioz ha perso 75 monete Bello l'incrocio perché Siamo tutti lì Siamo tutti lì Adesso E dipende dalle bonus La minigame Forse io No No Cazzo Con le bandiere di merda Oh no È perché ci ha anche messo in squadra Quindi non potevamo neanche Beh, questo è Warioz Eh, non sono io Eh, questo è Warioz E invece Io E quindi Quindi ho vinto io Eh sì, è più Mi sa che hai più soldi Per il duello di Warioz Per il duello di Warioz Grazie Warioz Ma, 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 ma Oh, ma Daica non ha fatto niente Per tutta la partita Praticamente Madonna Che comeback Con i meno passi Che doveva essere di Warioz Magari ti fa di Warioz Eh Ma di come fatte Vediamo subito i passi Vabbè, mega close comunque Eh, io giramondo ovviamente Ah, ma anche di un po' In realtà Tampissima Mi dimentico sempre Qual è il tasto delle foto E vado sempre in home Eh Avevo la rich No, peccato La rich sì Perché hai vinto il duello gigante Eh, sì Passi di tanto, è vero Guarda dove hai fatto Tutti questi passi All'inizio forse Deva farlo Gli eventi ne assegnano I verdi ne assegnano Quindi Quindi conta anche quelli Ah, già dobbiamo vedere le verdi Le verdi Le ha contate Sì, tre È forza Sì, quelle che avevo segnato io Quelle che avevo segnato io Sì Allora è giusto Sarà un bug probabilmente Però conta verde No, non è che è un bug Che decide subito Che è blu Per assegnare le squadre del minigogo Giusto quello La sfortunata ce l'avevi Tu Sempre tu Veccio e War Perché il bot è andato in su Nella superfortunata Eh, il Nike ne aveva parecchi Ma tutti più o meno Cioè poteva vincere chiunque alla fine Quanti passi ho fatto io? 139 Eh beh, hai fatto il quadro Peccato No, io non potevo vincere Perché anche se avevo minigame io Poi vinceva Nike il bonus E lui aveva più monete Quindi non avrei vinto comunque Anche se Ness non vinceva quello E dovevo uscire E è andata bene No, vabbè A me piace quando vince Non quello favorito Varia bene impazzita E poi vabbè Abbiamo avuto un gran momento Con Warez Che Sperò venda il gioco a nonno Vabbè, sì In effetti è durata poco la partita Però Vabbè, sì Vabbè, sì